Cari fratelli e sorelle, Ieri, ad Arissa, in Libano, è stato proclamato Beato il Vescovo Siro-Cattolico Flaviano Michele Melchi, martire. Nel contesto di una tremenda persecuzione contro i cristiani, lei fu difensore instaccabile dei diritti del suo popolo, esortando tutti a rimanere saldi nella fede. Anche oggi, cari fratelli e sorelle, in Medio Oriente e in altre parti del mondo, i cristiani sono perseguitati. La beatificazione di questo Vescovo martire infonda in loro consolazione, coraggio e speranza. Ci sono più martiri da quelli che erano nei primi secoli. Ma anche sia di stimolo ai legislatori e ai governanti, perché ovunque sia assicurata la libertà religiosa. e alla comunità internazionale gli chiedo di fare qualcosa perché si ponga fine alle violenze e ai suprussi. e alla comunità internazionale gli chiedi. E alla comunità internazionale gli chiedi. E alla comunità internazionale gli chiedi. Comin' riccara Jazhi E alla comunità internazionale gli chiedi.